Ok, vieni sotto le anche, iniziamo a muovere la testa, avanti, al centro, indietro, al centro, avanti, centro, indietro, 5, 6, 7, rotoliamo lentamente giù, pieghiamo legge una occhia, sfioriamo il pavimento e sgrottoliamo, 6, 7, sali, testa indietro e di nuovo, testa avanti, rotola piano e sgrottola, testa indietro, ultima volta e sgrottola, avanti le spalle, solleva la testa, inspiro, espiro un altro cuore, inspiro, guarda il soffitto, espiro, piega leggermente le gambe, guarda davanti a te, inspira, espira, braccia corti, alza i domini, spalle basse, metto energia nei movimenti, non vanno solo sulle 근데, ultima volta, rimaniamo qua, piegiamo le gambe, finiamo lentamente il busto indietro, stringiamo il sgrottolino della pancia, guarda un soffitto, stringete tutto, mi raccomando, e 4, e 3, e sali, Magno il cuore, scendi, siediti, senza staccare i talloni e sali alla delle lacce, inspira, siediti, inspira, e giù, e inspira, e giù, volta verso destra, centro, sali, giù, volta verso sinistra. Centro, e sali, giù, destra, centro, e sali, giù, sinistra, centro, e sali. Un'altra volta, scendiamo giù, rimaniamo a destra, apriamo le braccia, un braccio verso l'alto e un braccio sul pavimento, incastravi bene il comito sinistro sul ginocchio destro. Centro, magno il cuore, inspira, e inspira, vuota verso sinistra, incastra il comito sul ginocchio, apri le braccia. Magno il cuore, centro, inspira, sali, e inspira, e rimaniamo qua. Stendi e braccia davanti a te, braccia di me anche con le orecchie, non troppo aperte, magno in terra, stendi la gamba destra, porta in alto il braccio destro. Centro, piega, tutta le gambe, sinistra, porta in alto il braccio sinistro. Centro, destra, centro, sinistra, centro, destra, centro. Centro, sinistra, e rimani qua. Appoggiamo le cosce, la pancia sulle cosce, abbracciamo le gambe, infiliamo il naso e la ginocchia. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, e stendiamo le gambe, affiattiamo la schiena, quindi guardiamo dritte davanti a noi, la schiena è piatta come un tavolino. e giù, naso e la ginocchia, schiena è piatta, stendi, devo formare un angolo retto con il mio corpo, una e tre, e giù. e inspira, espira, inspira, inspira, ultima volta, inspira, porta le braccia davanti a te, apri le braccia, portale dietro di te, mantenendo sempre la schiena piatta, portale fuori, avanti, e accelera, e a metà, dietro, metà, davanti, metà, dietro, metà. sempre allineate con le spalle, non vanno oltre le spalle o più basse delle spalle. Qua, tre, due, tienile qua e muovili su e giù, tese il movimento, parte dalla spalla, non è solo la mano, ma tutto il braccio. 4, 3, 2, 1, spingi dietro, piega le gambe, spingi avanti, stendi le gambe, giù la schiena, spingi, e avanti, e accelera, e 8, 7, piega, stendi, piega, stendi, piega, stendi, piega, stendi e sali, schiena è piatta. Apri, e rilassati, sciogli, ok. Apriamo le braccia, piega, legge le gambe, stringiamo il sedere, e spazziamo il busto, la destra e la sinistra, solo il busto, il bacino si muove. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermo il busto, muove il bacino. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e mani al cuore. E, inspira, allungati, inclina il busto verso destra, stringi gli addominali, e ritorna al centro, piega leggermente le gambe. Inspira, allungati, vai a sinistra, e centro, e accelera, 4, 3, 2, 1. 1, stringi il punto, e inspira, espira, inspira, espira, vomiti alti, laccia forti, vai ancora una volta, e 4, 3, 2, 1. Allungati, guarda a destra, in alto, guarda a sinistra, in alto, cercate di portare il bacino meno possibile, i fianchi e anche rimangono girate dritte davanti a voi. Inspira, 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 attenzione, unica volta, expira, e inspira, Contrazione ottimale, curva la schiena, inspira, attenzione, contrai, inspira, allungati, contrai, inspira, allungati, e rilassati, e sciogli. Ok, spingiamo il peso del corpo sulle dita del piede, altrimenti, destra, sinistra, 4, destra, sinistra, destra, sento bene il collo del piede che spinge avanti, Spingi, spingi, spingi ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attenzione, rimani, destra, piega, stendi, cambia, 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 piega, stendi. Stendi, cambia, piega, stendi, e appoggia, piega, stendi solo, 8, 7, 6, dritti, 4, 3, 2, le braccia spingono, avanti, dietro, avanti, dietro, con forza, non faccio questo, non sposto l'aria. Devo sempre pensare come se avessi dei pesi o una resistenza in mano, quindi metto energia nei movimenti, 4, 3, 2, stai qua. E apri, e apri, e chiudi, e apri, e chiudi, e apri, e intanto le braccia spingono, avanti, accelera, inspira, espira, inspira, 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 inspira. Ancora, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aggiungiamo in alto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, stendi le gambe ruota, la mano sopra e sotto. Palmi in alto, palmi in alto, palmi in basso, palmi in alto, palmi in basso, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, piedi, assi, capisci. Abbiamo le gambe, diventiamo abbastanza, portiamo le mani al cuore, portiamo le mani al cuore, portiamo i premi, una mano, così sembra che sto pregando. Alziamo i coppiti, prendi una mano contro l'altra, con forza, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tieni tre punte, scendi giù. E sali su, vedi le punte ruota per la salistra, ma giù. Sempre i muscoli del braccio del carto attivi, apri un po' i piedi le gambe, Sandra. Andiamo giù sul piano e giù, glia, e su, e spira, e spira, e spira. Inspira, vai. Attenzione, il braccio avanti, inspira, raccogli, espira, spetti le gambe allontano. Inspira, raccogli l'energia positiva, espira, allontana quella negativa. Inspira, inspira, espira, spingi verso destra, guarda destra, inspira, spingi verso sinistra, inspira. Sempre giù, mi alzo le mani, sposto solo il peso del corpo da una gamba all'altra. La, raccogli, la, raccogli, questa volta, la, raccogli, mani, forti. Stacca, appoggia, stacca, appoggia, destra, appoggia, sinistra, appoggia, destra, appoggia, sinistra, appoggia. e scendi scendi schiera piatta di nuovo tavolino porta le mani dietro le lecchie teni i gomiti aperti e sali e scendi e sali senza cadere mantenete sempre la schiera piatta e sali e scendi e sali e scendi e sali e scendi e sali scendi le mani la braccia posa le mani sul pavimento 7 6 5 4 3 lentamente avviciniamo i piedi e scendiamo i talloni le punte le punte le ginocchia attese piedi sotto le mani sul pavimento e molleggia 1 2 3 e stendi quando stendo infilo il naso in mezzo alle ginocchia vai e vediamo su ok puntiamo i piedi per terra quindi ci sediamo sui talloni con la mezza punta dietro e saliamo su e scendiamo inseriamo braccia attesa nelle spalle e scendiamo ancora e su quando salgo lo salgo semplicemente con un raggio delle glutee e torno giù ancora e strizza sento proprio la cina che spinge avanti e le anche che c'ha l'acqua di aprirsi e giù ancora vai su e giù e su attenzione rimaniamo su busto allineato con le cosce andiamo leggermente indietro ritorniamo avanti e ci sediamo se continuare i patriccini di su e indietro e salgo quattro volte più veloce vai e uno due tre quattro e uno due tre ancora due volte vai uno due tre ultima volta quattro tre due e indassa posa il buste e andiamo avanti allora per questa posizione andiamo ad appoggiare i gomiti sul pavimento ok sul lato destro quindi ci ritroviamo con le ginocchia avanti ma i gomiti e la faccia girata verso il pavimento ok Sandra mettiti con la testa di là con la testa anche Monica con la testa di là si perché così quando fate la testa a sinistra voi siete Sandra dirati di là dirati di là dopo ok verso il muro verso il muro Sandra la testa dal muro ti da oh brava ci rispio allora la posizione in mezzo scusa io non ho unica capire stendiamo la gamba indietro di noi ok con la punta tirata iniziamo a spingere indietro sedici due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre con il piede a martello portiamo la gamba davanti a noi otto volte sette sei butta la lente cinque quattro tre due tieni il piede a martello la gamba in basso e solleva sedici due tre quattro cinque sei piede parallelo al pavimento non girate la punta otto sette sei cinque quattro tre due e uno e qua vengo su e faccio la stessa cosa dall'altra parte ok qui stendo dietro stendo dietro di me la gamba destra e la spingo sedici volte indietro vai sedici due tre controllo la schiena cinque sei sette otto ancora otto sette monica monica giura bene le spalle verso il pavimento quattro oh tre due vieni a martello e porta avanti e giù fuori l'aria e giù fuori l'aria e giù fuori l'aria e giù ancora quattro ancora tre ancora due chieni la gamba in basso solleva bassa sedici piede e palla nel pavimento sempre a martello del piede ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno e in basso e intanto le braccia fattivitano ok allora ci mettiamo adesso in questa posizione quindi con la gamba destra incrociata davanti e la sinistra dietro le braccia tese davanti a noi stacchiamo la gamba e la solleviamo su 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 addomini forti dai ancora otto sette attenzione a non portarla avanti eh solo su quattro tre ora la teniamo sollevata e la portiamo avanti e indietro senza appoggiarla avanti e indietro con calma e avanti e indietro e avanti e indietro rimane avanti porta le braccia sopra di te non appoggiarla e vai otto sette sei cinque quattro tre due ancora otto ci stanno otto sette elimina il porto sei cinque su sette quattro tre due uno rilassa e cambia muori foca entusiasi ho la finestra proprio qua ok vai braccia davanti a te si cambia gamba su stacca e solleva su 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 cerca di spingere un po' più indietro le nostre lina otto sette lina avanti con il gusto sei cinque quattro tre due porta l'avanti e quattro e indietro e all'appoggiare e tre e indietro e due e indietro e una e indietro riporta l'avanti porta leggermente fino a su le braccia e otto sedici tre quattro cinque sei ditta l'aria sette ancora otto sette sei cinque quattro tre due e l'unico e rimassiamo ritorniamo con la sinistra dietro e la destra davanti questo movimento qua vado a colpire con il vomito il ginocchio la gamba scende ma non l'appoggio ok per fare un po' più di movimento vado a sfiorare il movimento ma rimane sempre su solo otto progete aprite le testa Sandra tre due uno vai otto girati sette guardala sei guardala cinque quattro tre due e uno prendi la gamba incrociala e abbracciala l'altro braccio valenza ok spingi bene il vomito unisci le mani e girati tutte poi con le spalle verso il tuo a sinistra alza il vomito Sandra vado ad afferrare l'allice sinistro con la mano sinistra stegna la gamba porta l'avanzo a te appoggia bene i glutei sul pavimento se non riesci a prendere il piede va bene anche il polpaccio però la gamba la vuole tesa ok da qua la portiamo fuori la ritracciamo e portiamo la sinistra davanti quindi la destra dentro di noi mani al cuore girati bene verso sinistra solleva la gamba destra e vai a colpire il ginocchio col vomito va otto sette sei cinque respirate e bravissime incrociamo abbracciamo forte incastriamo il gomito e andiamo a unire le mani alziamo i gomiti tutti e due alti alza il gomito sangra bravissima sette sei cinque quattro tre due andiamo a rafferrare l'alluce destro con la mano destra stendi la gamba portala davanti a te e sistemati col sedere nella terra portala fuori e qua centro piedi uniti andiamo a prendere tutti e due gli amici e niente acquario equilibrio sui glutei qui chiedo gli occhi senza cadere indietro respiro profondamente mi concentro addominali forti quando mi sento pronta apro gli occhi e provo a stendere tutte e due le gambe posso anche non sentirmi mai pronta a rimanere qua non c'è nessun problema non chiedi su vai ci vuole bravissime ok piedi a dare avanti a noi braccia avanti schiena rotonda ispira scendi indietro espira lentamente allunga ancora vai scendi e espira vai e giù continuate e su allora lo dicevo gommiti sulle gambe e ruota destra sinistra destra sinistra destra sinistra i piedi sono staccati da terra ancora 8 7 6 5 4 3 2 attenzione e destra stendi piega e torna al centro sinistra stendi piega e torna al centro ancora destra stendi piega e torna al centro sinistra stendi piega attenzione e destra stendi torna al centro e piega sinistra stendi torna al centro e piega destra stendi torna al centro e piega stendi 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 a stendi Grazie a tutti.